A partire da questo anno scolastico nella scuola primaria non si useranno più i voti che saranno sostituiti da un giudizio descrittivo. La novità sarà visibile già anche fra poche settimane quando i bambini riceveranno la scheda di valutazione della fine del primo quadrimestre. Attenzione non basterà usare un ottimo al posto del 10 o un sufficiente al posto del 6 perché secondo quanto stabilisce l'ordinanza del ministero dovrà cambiare l'intera filosofia della valutazione. Intanto i giudizi saranno riferiti a quattro diversi livelli di apprendimento avanzato, intermedio, di base, in via di prima acquisizione. Ma soprattutto la valutazione non dovrà servire in nessun caso per classificare gli alunni o per fare graduatorie dai più bravi ai meno bravi. Bisognerà invece usare la valutazione per promuovere le capacità di ciascuno, aiutando tutti a superare le proprie difficoltà. Ma come si potrà raggiungere questo obiettivo così ambizioso? Per esempio come spiega il ministero nell'ordinanza e come già tanti insegnanti fanno da tempo, cercando di puntare molto sulla autovalutazione degli alunni già dalla prima classe della scuola primaria. Su questo i genitori possono dare un aiuto importante. La domanda da fare al proprio figlio non è quindi quanto hai preso del compito, ma piuttosto cosa hai imparato oggi. Ti sembra di migliorare? Su cosa ti senti più sicuro? Su cosa ti sembra di avere delle difficoltà? È un punto molto importante perché è proprio questo che fa la differenza fra una valutazione finalizzata a classificare o addirittura a sanzionare e una valutazione che aiuti il bambino a crescere, a renderlo consapevole dei propri punti di forza, di debolezza, in modo da potersi continuamente migliorare. Il nuovo sistema insomma è finalizzato anche ad evitare che gli alunni studino e si impegnino esclusivamente per ottenere un bel voto o per far contenti insegnanti e genitori. Infine è evidente che questo modo di valutare deve fare riferimento anche ad un insegnamento, ad una pratica didattica e ad un clima della classe basati non sulla competizione ma sulla collaborazione e sulla cooperazione. Si tratta cioè di aiutare il bambino non a diventare più bravo del proprio compagno di banco ma a riflettere sui propri risultati per prepararsi a migliorare se stesso e a raggiungere nuovi obiettivi. Un punto importante è questo, il voto non entrerà più nella pagella di fine anno o di fine quadrimestre ma, come suggerisce il Ministero, sarà progressivamente eliminato anche per i singoli compiti o per le interrogazioni. Il cambiamento insomma è considerevole e le scuole si stanno già attrezzando per modificare il documento di valutazione. In pratica ciascuna scuola deve definire per tutte le discipline di insegnamento i diversi obiettivi formativi per i quali dovranno essere formulati i giudizi. Inoltre i collegi dei docenti delle singole scuole dovranno definire in modo chiaro e trasparente i criteri ai quali i docenti si dovranno attenere per attribuire i livelli di apprendimento. Tutto questo dovrà essere inserito nel piano dell'offerta formativa in modo che anche le famiglie ne siano a conoscenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.